Ciao, l'altro giorno ho visto un commento su Facebook sotto un post che diceva speriamo che ci sia un colpo di stato e ho detto ecco qua un'ennesima persona che spera qualcosa adesso indipendentemente dal fatto, dalla tematica del colpo di stato o non colpo di stato che non è questo che mi interessa commentare, ma quello che mi interessa commentare è proprio questo speriamo che accada questo, come tante persone dicono anche speriamo che accada questo nella mia vita speriamo che accada questo intorno a me, speriamo che il mondo diventi un posto migliore te lo dico subito che questo non accadrà, non accadrà perché comunque tu speri che accadano le cose ma le cose non accadono, siamo noi che le facciamo accadere, siamo noi con la nostra energia, con la nostra volontà con le nostre azioni, con le nostre scelte che facciamo accadere le cose quindi se tu vuoi un cambiamento in questo mondo e io spero che sia per un mondo migliore quello che io ti suggerisco è non sperare che accada, ma fallo accadere tu ciao al prossimo video